audace e bolghera le due squadre puntavano ai playoff all'inizio della stagione ma il netto distacco dall'ischia nega la qualificazione due giornate dal termine vedremo se il valore delle due squadre darà comunque vita a un match gradevole calavino roncegno con la sconfitta nel derby gli ospiti dimostrano di aver disputato un'altra annata sotto tono mentre i rossoneri hanno offerto un buon girone di ritorno che però non è bastato raggiungere i playoff match senza aspettative montevaccino altipiani i gialloblu tornano a giocare sul proprio campo con l'obiettivo di riscattare il recente periodo negativo mentre giallorossi stanno dimostrando una discreta crescita ma ancora senza risultati come andrà a finire oltre a fersi ne invicta duomo per gli ospiti si prospetta una partita difficile ma per puntare la vetta difendere il secondo posto sono fondamentali i tre punti i perginesi riusciranno a fermare come all'andata i gialloblu primiero calisio trasferta insidiosa per la capolista al primo match point per vincere il campionato a prescindere dal risultato di persine però i grigiorossi non possono perdere ma i primi rotti sono sempre complicati da affrontare sopramonte vigolana sconto nelle retrovie tra i locali in crescita nel ritorno trascinati dal veterano turri e i biancoblu che pagano le molte assenze la scarsa organizzazione di zoco gli ospiti ribalteranno l'esito dell'andata valsugana tesino secondo derby consecutivo per i gialloverdi ma le due vittorie recenti hanno riportato allegria nello spogliatoio per gli ospiti la classifica non conta ma le motivazioni sono sempre alle stelle grazie Grazie a tutti.